Generalizzazione è il nostro driver principale nell'ambito del piano industriale, quindi assolutamente ci troviamo pronti per il primo gennaio 2025. Già oggi stiamo sviluppando progetti nell'ambito del piano industriale in corso con questa modalità e stiamo vedendo i benefici, anche in particolar modo col BIM 4D e 5D che stiamo sviluppando come polo-infrastrutture. Quindi da questo punto di vista ci troviamo pienamente dentro questo processo di innovazione. Il secondo tema è l'intelligenza artificiale, potrà influire sulle vostre attività e se state già lavorando? Assolutamente sì, stiamo già lavorando su questo tema, stiamo lavorando in termini di implementazione dell'intelligenza artificiale all'interno dei nostri processi manutentivi per venire a una manutenzione predittiva piuttosto che una manutenzione di tipo programmata e questo ci consentirà di migliorare ulteriormente sia il rendimento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sia soprattutto di minimizzarne i costi. Allora l'importanza e il ruolo dell'ingegneria e delle società di ingegneria per codiavare questi processi di ammodernamento di infrastrutture e di controllo? Il processo dei rapporti con le società di ingegneria è un rapporto fondamentale per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed è un rapporto che nel tempo è sempre di più reso importante dalla sfida dei tempi. Dobbiamo garantire dei tempi molto impegnativi, dobbiamo garantire il massimo rispetto della qualità del progetto e soprattutto dobbiamo garantire degli standard prestazionali dell'opera anche in termini di durabilità e di manutenibilità elevati e questo è sempre aiutato da una grossa condivisione di obiettivi tra la committenza pubblica, tra la stazione appaltante come RFI e il mondo dell'ingegneria e dell'architettura.